Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come imbobinare un mulinello nuovo. Innanzitutto vi mostro come fissare i primi giri del filo all'interno della bobina. È un'operazione abbastanza semplice, facciamo una cappia, una semplicissima cappia, in questo modo, dopodiché prendiamo il filo e lo facciamo passare all'interno, praticamente otteniamo un cappio in questo modo. Questo cappio lo fissiamo alla bobina, così facendo, e dopodiché possiamo iniziare a imbobinare il mulinello. Quest'operazione è un'operazione molto molto importante, in quanto il filo deve essere svolto esattamente al contrario di come invece è stato imbobinato sulla bobina originale. In questo modo, per ottenere questa cosa, noi teniamo la bobina con le due dita e appoggiamo la canna sul braccio. Cominciamo a imbobinare il mulinello e in questo modo, vedete, la bobina originale deve ruotare esattamente al contrario di come invece è stata imbobinata in origine. Così facendo, evitiamo quelle antipatiche torsioni del filo che, una volta in pesca, potrebbero causare degli arricciamenti molto molto fastidiosi nel filo che stiamo utilizzando. Così facendo, procediamo, imbobiniamo il mulinello fino ad arrivare alla quantità di filo che vogliamo mettere nella bobina. Faccio vedere, eventualmente anche girato in questo modo, che così si può notare ancora di più la bobina che gira esattamente al contrario di come è stata imbobinata. Una volta terminato di imbobinare il nostro mulinello, un'altra cosa molto importante è la quantità di filo che noi mettiamo sulla bobina. Il filo, lo spessore del filo, non deve mai chiaramente uscire dalla tangente della bobina e comunque non essere nemmeno troppo bassa la quantità, in quanto mettendo una quantità troppo bassa, nella fase di lancio potremmo creare degli attriti appunto sulla bobina e perdere anche dei metri come distanza. Comunque, una volta terminato di imbobinare la nostra bobina in questo modo, smontiamo la bobina e facciamo un'operazione molto importante per quanto concerne la pesca all'inglese. Una delle caratteristiche principali che deve avere il filo per la pesca all'inglese appunto deve essere la fondabilità, in quanto una buona fondabilità ci permette di pescare a notevoli distanze e mantenere il nostro galleggiante più fermo possibile. Per far affondare molto bene il nostro filo facciamo un piccolo trucco. Mettiamo un pochino di sapone o meglio una parte di questo liquido che è praticamente un liquido sgrassante che serve sia, può essere utilizzato sia per spruzzare, da spruzzare direttamente sulla bobina, ma io lo utilizzo anche in quest'altro modo, cioè ne verso un pochino all'interno di un secchio dove ho messo dell'acqua in precedenza. Mescolo chiaramente l'acqua col sapone e immergiamo la nostra bobina già imbobinata all'interno proprio sott'acqua e la lasciamo in questo modo per almeno due o tre giorni. Cosa succede? Facendo questa operazione il filo si lava chiaramente grazie al liquido sgrassante che abbiamo all'interno dell'acqua e essendo sgrassato tende ad assorbire una piccola quantità di acqua e assorbendo acqua diventa più pesante, di conseguenza la fondabilità migliora notevolmente. Un'operazione molto importante da fare quando si pesca all'inglese è segnare il filo per avere la certezza di pescare sempre alla stessa distanza e questa operazione non è così semplice come può sembrare. Io utilizzo un piccolo trucchetto, praticamente lancio il galleggiante alla distanza circa dove voglio pescare e fermo il filo nella clip della bobina. successivamente conto i giri di manovella che mi occorrono per recuperare il galleggiante fino alla cima della canna e in questo modo posso segnare il filo di tutte le canne che voglio utilizzare alla stessa distanza mettendo questo segno alla stessa distanza di tutte le canne in modo che tutte le canne abbiano gli stessi giri di manovella dal segno al galleggiante. Questo segno, come l'ho chiamato io, può essere fatto utilizzando del filo di una certa visibilità, in questo caso ho un filo di colore giallo, e applicando un nodo alla nostra madrelenza. Praticamente mettiamo il nostro filo parallelamente al filo del mulinello, facciamo una piccola cappia girando entrambi i fili e successivamente passiamo all'interno di questa cappia almeno tre volte il filo che utilizziamo per appunto per creare questo questo segno. Facciamo in questo modo, due e uno, tre. tiriamo i capi del filo che ci serve come segno, ecco in questo modo abbiamo ottenuto un nodo che non ci crea problemi in fase di lancio perché deve essere un filo abbastanza morbido e può anche essere spostato nel caso in cui io voglio cambiare la distanza di pesca. Una volta fatto il nodo con una forbice ci aiutiamo e tagliamo un pochino i baffi di questo filo, in questo modo. Non tagliamo completamente i baffi fino a contatto del nostro filo della madrelenza perché in questo modo essendo un pochino lunghi non impediscono completamente il filo di uscire dalla bobina nella fase di lancio. Se facessimo dei baffi più corti potremmo incontrare a volte il filo che fa più fatica ad uscire.